Un aspetto fondamentale da tenere conto quando si stampa in 3D, ma in realtà più o meno quando si fa qualunque cosa, è la parte della sicurezza. E' proprio uno dei motivi per cui vi dico spessissimo di stampare in ambienti arieggiati, è proprio per evitare che vi respiriate la robaccia che potrebbe produrre la vostra stampante 3D. E sì, sfatiamo il mito che il PLA non rilasci nulla nell'aria e sia perfettamente sano. Comunque le vacanze sono finite, sì mi sono riposato ma nella realtà di fatti ho sistemato un po' di cose pendenti che c'erano da fare e ho anche iniziato la stesura dei contenuti di questa stagione. Quindi per stare sintonizzati su tutta questa nuova robetta che sta bollendo in pentola, mi raccomando lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale spuntando la campanellina, vi arriverà almeno la notifica. Comunque per tornare al discorso del video c'è da fare prima una piccola premessa per evitare infondato terrorismo. Non tutti i materiali si comportano allo stesso modo e non rilasciano sempre le solite cose. Diciamo che in linea di massima si tende ad usare i dispositivi di protezione delle vie aeree esclusivamente per le stampanti a resina, perché l'odore pungente di quei materiali ci avverte del possibile pericolo. Con la stampa 3D a fusione di PLA o PETG non abbiamo un reale riscontro sgradevole, dandoci la falsa percezione di sicurezza. Falsa perché nonostante non sentiamo nulla, nell'aria qualcosa c'è, ovvero le particelle ultra sottili. Mentre invece nella stampa in resina avremo dei vapori composti organici conosciuti anche come VOX. Cosa invece molto importante, ognuna di queste categorie ha specifici tipi di filtri da utilizzare. Vedo molto spesso la mascherina chirurgica utilizzata per la resina, ma non servono assolutamente a niente. Alla peggio vi protegge dagli schizzi. Ma in ogni caso se lavorate nel luogo in cui avete anche la stampante 3D e avete dei problemi a fare ricambio d'aria, sia d'estate per la climatizzazione, sia d'inverno per il riscaldamento, portare tutto il tempo una maschera potrebbe non essere la scelta più comoda. E qui entra in gioco, almeno per le stampanti FDM per ora, Alveo 3D, una ditta francese che si occupa di produrre kit per il filtraggio dell'aria all'interno delle camere di stampa, con l'unica grande differenza che lo fanno in modo decisamente più smart rispetto ad una classica ventola accesa e basta, o comunque un purificatore d'aria. E questo serve sostanzialmente per diminuire l'inquinamento acustico della stanza quando sostanzialmente non serve. e a cambiare meno spesso i filtri, facendovi risparmiare dei soldi. Loro mi hanno mandato da provare il kit Alveo One con display per il controllo. Addirittura si potrebbe interfacciare con ad esempio una Raspberry tramite la porta RS232 per automatizzare e remotizzare il tutto. Però, prima di spiegarvi il suo funzionamento, vediamo come montarlo. Visto che ho ricevuto solo il kit dell'elettronica e filtro, dal sito web ho dovuto scaricare gli STL e stampare il case che mi tornava utile. Io ho scelto quello da incassare, altrimenti potete metterlo con l'apposito case dentro al box di stampa per fare ricircolo interno senza estrazione. Questa soluzione serve per evitare cali di temperature interne quando stampate materiali che necessitano di camera calda. Oppure, più banalmente, se avete più stampanti ma non le fate lavorare insieme, o comunque magari su una ci stampate il PLA, che comunque è abbastanza tranquillo, mentre invece sull'altra ci stampate ABS, ecco, magari potete prendere e metterlo da una parte o dall'altra quando vi serve. Per la prova di installazione comunque ho scelto la mia C-Trees SP5, a cui ci sto costruendo un enclosure. Non è ancora completato perché non è detto che rimarrà qui su questa, ora serve solo per farvi vedere com'è configurata e come funziona. Ho dovuto bucare in modo più o meno preciso il plexiglass per poter inserire il modulo tra l'interno e l'esterno della stampante. Diciamo che si integra molto bene. Ho anche aggiunto uno spessore per tenere il dispositivo filtrante molto più esterno rispetto all'installazione originale, per evitare che andasse a sbattere con le componenti interne in movimento. Vista la modifica ovviamente ho dovuto tagliarmi delle barre filettate più lunghe, ma ovviamente se seguite in modo preciso quanto previsto da Alveo, le viti in confezione saranno più che sufficienti. Prima di fissarlo con i dadi comunque in modo definitivo, ricordatevi di collegare tutti i connettori sulla schedina di controllo. Si può comunque tranquillamente utilizzare il suo trasformatore esterno, ma molto probabilmente lo sostituirò collegando l'unità direttamente all'alimentatore della stampante, così da avere un interruttore unico. Ovviamente nel vostro caso verificate che il voltaggio sia a 24V compatibile con l'originale. Se così non fosse esistono comunque dei trasformatori di cdc, anche step up, che vi porteranno il voltaggio alla tensione desiderata. Comunque una volta collegato il tutto potrete incassare anche il display, oppure stampare il supporto da tavolo se comunque lo vogliamo muovibile. Questo tablettone comunque forse lo preferivo un po' più compatto, così da rendere più semplice l'integrazione su ad esempio la parte anteriore della stampante. Non appena avete finito di sistemare i cavi, che ovviamente anche qui non devono andare a distruire i movimenti della macchina, procedete ad accendere il tutto con l'interruttore posto sul palco filtro. Ci sarà da fare un semplice setup guidato per quanto riguarda il test della velocità della ventola con e senza filtro. Questo viene fatto perché quando presente i giri per minuto diminuiranno a causa della resistenza dell'aria che viene fatta dal palco filtrante. Configurazione molto importante invece è il volume della vostra stampante in decimetri cubi. Questo servirà a calcolare quanto la ventola dovrà stare accesa per filtrare tutto il contenuto della macchina. Voi immaginatevi di avere una cisterna piena d'acqua e una pompa per svuotarla. Sapendo quanti litri al minuto farà la pompa e quanti litri sono presenti nel contenitore, possiamo sapere sostanzialmente quanto lasciare accesa la pompa per svuotare l'intera cisterna. Ecco, il principio è più o meno lo stesso. Una volta fatto ciò è in realtà pronta per funzionare. Ma perché tutte queste configurazioni e perché, soprattutto, potreste aver bisogno di un filtro smart? Facendo riferimento allo studio di Alveo 3D, si può notare che le particelle non vengono rilasciate in modo costante per tutta la stampa, ma ci sono dei picchi in base a vari fattori. Ecco, questo dispositivo si può configurare in modo tale da avere una certa velocità di filtraggio ad inizio stampa, in mezzo e a fine. Ci sono già delle configurazioni prefatte in base ai loro studi che potete comunque personalizzare. Ovviamente, per far funzionare tutto ciò, dovrete riportare all'inizio della stampa quanto tempo essa durerà, così che possa adattare i valori in modo automatico per poi anche spegnersi autonomamente quando la stampante poi avrà finito. Non essendo collegata direttamente alla scheda madre, comunque voi dovrete fare tutto manualmente. E come vi accennavo prima, durante il processo di stampa aggiusterà la velocità della ventola in base, per l'appunto, alla preconfigurazione che è stata fatta, per l'appunto, sulle curve di erogazione, che ovviamente verranno spiattellate nella durata intera della stampa. Questo comunque è un aggeggio adatto a tutti? Sì e no. È sicuramente un ottimo prodotto che filtra in modo intelligente tutte quelle particelle non proprio salutari, in particolare quando si hanno degli ambienti chiusi senza, come vi dicevo, ricambio d'aria. Si adatta davvero molto bene alle varie esigenze della stampa FDM, anche grazie al fatto che le componenti le possiamo stampare tranquillamente da noi, senza stare ad acquistare altre cose aggiuntive se volessimo cambiare setup. Potete tranquillamente farne a meno tenendo una porta aperta, una finestra, qualcosa del genere, facendo comunque attenzione che non ci siano correnti d'aria che vadano ad influenzare l'andamento della stampa, soprattutto ora andando verso l'inverno. Questo è un prodotto per i super appassionati, come me, oppure per i professionisti. Per tutti gli altri, devo essere onesto, ci sono soluzioni intermedie. Detto ciò, comunque, per tutti i riferimenti alla sicurezza e i dati che Alveo 3D ha preso per i loro studi, vi lascio il link al paper da loro pubblicato qui sotto in descrizione. Insomma, il video di oggi finisce qui, spero tanto che vi sia piaciuto e soprattutto che vi sia servito utile. Mi raccomando, se così fosse, lasciate un grande mi piace, iscrivetevi, commentate. Mi fa sempre un sacco piacere e ci vediamo al prossimo video.